Ha valuto in maniera abbastanza positiva, soprattutto a livello di atteggiamento c'è stato, nonostante potessimo comunque pensare che fosse una verità di Coppa Italia e quindi prendere in maniera diversa, invece c'è stato l'atteggiamento giusto. Io personalmente dovevo riprendere un po' di minutaggio, visto che venivo da un piccolo infortunio, non trovavo i 90 minuti da un po' di tempo, però sono abbastanza contento. Ti abbiamo rivisto nella posizione davanti alla difesa di play, è un ruolo che è nelle tue corde in questa stagione, come ti trovi? Mi trovo bene, mi piace, preferisco giocare un po' più avanti, però quando c'è bisogno, in tutte le tre o quattro ruoli del centrocampo, io mi faccio sempre trovare a disposizione. Eravamo felici comunque di vedere il pubblico, nonostante fosse comunque una partita di Coppa Italia di martedì, ci ha fatto piacere. Diciamo che gli scontri diretti sono molto importanti, come tutte le altre partite, poi a livello di morale soprattutto ti danno quel qualcosa in più. Noi sicuramente arriveremo pronti e agguerriti, perché appunto ci può dare quel qualcosa in più. Oggi eravamo concentrati per ieri per questa partita, poi da domani purtroppo si resetta, perché è pur sempre una sconfitta. Si pensa appunto alla partita di sabato, perché non c'è tanto tempo per prepararla e dobbiamo ottimizzare i tempi. Sì, è pur sempre un campo differente dal campo in erba. Ovviamente se ti alleni, ci giochi tutti i giorni, comunque hai un vantaggio. Però abbiamo giocato talmente tante volte che alla fine sei abbastanza abituato a giocare anche nei sentieri.